Ehi buongiorno a tutti in Italia, Tommaso di Seilbach in Austria, welcome, buona fortuna. Buongiorno, ciao, fiducia come sempre, come Berlino, uguale, speriamo meglio anzi, basta con faccia trapina e poi noi siamo già a posto. Ciao a tutti, ciao. Dicco io, è sicuro. Dicca adesso è un obiettivo però. Ciao a tutti, sì sì, un po' emozionato. Dov'è? Ah, vediamo, si sa, ancora all'inizio. Ciao a tutti, con la neve molle speriamo di essere un po' più due di noi, il quarto, il primo di quest'anno però, se si è pronto, sarà dura però ci proviamo dai, che c'è da fare? Buongiorno, allora, carichissimi, andiamo a rannare, ranniamo facile. Ciao a tutti, guarda con che maglia gioco sotto.